PUSHA! Nessun altro al mondo che Kaio, successore della scuola di Aduto Gemmi, Potrà uscire vincitore da questa sfida E' troppo di lottà Primo round Combattete Ma io e' invincibile Tu morirai Tu morirai Tratroci sofferenze Mi accorgo che non hai una grossa resistenza Per aiutarti abbrevierò le tue sofferenze Mandandoti subito all'interno Perfetto Distruggerò facilmente tutti i duplicati che ti sei creato Non sei sufficientemente forte per combattere contro di me Maledetto Maledetto Non sei altro che un pauroso coniglio paragonato a me Che cosa ti ha fatto credere di essere in grado di affrontarmi vittoriosamente Piazzati e combatti Secondo round Combattete Combattete Spiaccerò come un insetto Ai no è Aio è E' un morale! Anriutanta! Globo rotante di fuoco! Non sei altro che un pauroso coniglio paragonato a me Che cosa ti ha fatto credere di essere in grado di affrontarmi vittoriosamente?